quando parliamo di matrimonio ecosostenibile matrimonio green insomma tutto quell'ambito in cui la tematica sia rivolta verso la natura e rispetto dell'ambiente si pensa subito alle cose materiali quindi non so il vestito il materiale delle partecipazioni il cibo il tipo di location ma chi è che pensa alla musica infatti silenzio perché non ci pensa nessuno quindi volevo farti conoscere un'esperienza musicale che si adatta perfettamente all'idea di un matrimonio ecosostenibile questa esperienza si chiama cerimonia vocale e io sono cristina verderi ovvero l'ideatrice soprano lirico e ideatrice di cerimonia vocale perché cerimonia vocale è diversa perché prima di tutto non usa nessun tipo di impianto non ha bisogno di prese di corrente non ha bisogno di amplificazione o microfoni o cose del genere e quindi potenzialmente tu puoi mettermi ovunque quindi luoghi aperti chiusi piccoli grandi nel bosco o in un parco in una sala magari antica dove magari non ci sono neanche le prese di corrente le chiese piccole chiese medievali e poi immagina tutta quell'attrezzatura che poi andrebbe ad apparire nelle foto è veramente terribile prova invece a prendere in considerazione per il tuo matrimonio ecosostenibile anche una soluzione musicale che soprattutto sposi i tuoi valori è difficile al giorno d'oggi trovare servizi che rispecchino pienamente i nostri valori se sei interessato guarda nella descrizione di questo video troverai un link di approfondimento tramite il quale puoi scoprire cerimonia vocale ti aspetto e quindi